Mi chiamo Oleg, lavoro in bacheca come product owner, sono appassionato di web performance da molto tempo, lavoro nel web diciamo dal 2006 più o meno. Iniziamo subito con questo argomento, vedremo innanzitutto in linea generale perché bisogna fare le misurazioni delle velocità dei vostri siti e applicazioni e in generale la differenza tra quelli che sono gli strumenti di misurazione sintetica e invece gli strumenti di misurazione degli utenti reali. E poi vedremo i vari step appunto come poter mettere in atto questo sistema praticamente a costo quasi zero, quello del setup, e vedremo nel dettaglio ogni fase. Perché serve misurare la velocità di caricamento di un sito? Innanzitutto essendo ogni sito diverso da un altro non si possono prendere delle misure a caso e diciamo fare benchmarking con quello che sono gli altri siti. Senza una misurazione diciamo accurata non serve buttare tutte le tecnologie al tuo server o comunque tecniche di ottimizzazione di questo mondo perché tanto si finirebbe a fare ovvero optimization, quindi prima dobbiamo misurare, capire cosa sta succedendo e poi mettere in atto diciamo una strategia di ottimizzazione e le varie tattiche che poi ne derivano. Ci tenevo a spiegare la differenza tra la RUN che sta per appunto Real User Measurement verso sintetico, ovvero misurazione di velocità sintetiche. Quando parliamo di sintetiche diciamo che si tratta di una simulazione dello stato di saluto del vostro sito, quindi viene fatto un test sintetico diciamo simulando la visita al vostro sito con determinate condizioni di rete, di hardware, eccetera, scelte da voi. Gli strumenti che possono essere citati sono webpagetest.org, Lighthouse oppure Google Page Speed Insights. Con modalità sintetica potete, ce ne sono altri comunque però in questo modo potete comparare il vostro sito con i competitor per esempio, potete verificare come il design del vostro sito influisce diciamo sulle web performance e oppure potete comparare una versione nuova del vostro sito rispetto a quella precedente, per esempio anche installando un'istanza sull'ambiente di sviluppo, quindi prima di rilasciarla potete fare i vari test. Quando parliamo invece di room, quindi misurazione degli utenti reali, a differenza dei test sintetici, sono soltanto una simulazione, questa mostra dati reali dei vostri visitatori reali con le loro condizioni reali di network, hardware, posizione geografica da dove risiede il vostro sito, dal server dove risiede il vostro sito, sistema operativo e browser in uso. Sono sicuramente dati molto più reali rispetto a quelli sintetici, però andrebbero sempre comparati con quelli sintetici per vedere se matchano in sostanza. In Google Analytics tra l'altro vedremo che si possono fare alcuni report incrociati, come per esempio le cattive web performance possono incidere sulle metriche lato business, quindi bounce rate, tempo di permanenza sul sito, eccetera. Il primo step è sicuramente quello di capire cosa sarebbe il Navigation Timing API. Questo è uno schema dei vari stati, vari eventi che avvengono nel browser quando una pagina viene caricata. Ce ne sono tanti diversi, fino a qui è tutta roba lato back-end, da qui è tutta roba front-end, quindi in sostanza ci concentreremo più su questa parte qui. Questa API è presente nel browser, nei browser moderni, fornisce dati che possono essere utilizzati per misurare le prestazioni di un sito web. A differenza di librerie, diciamo, basate su JavaScript, sono state usate in passato. In questo modo riusciamo sicuramente a raccogliere informazioni molto precise, accurate e affidabili dei nostri utenti. Quindi, come dicevo, consente di misurare la quantità di tempo necessaria per fare un unload della pagina precedente oppure della domain lookup e altre metriche che vedete qui sul DOM e non solo. Per iniziare a raccogliere questi dati bisognerebbe inserire un JavaScript in pagina. In questo caso potete vederlo qui al link, che in sostanza va a misurare i vari stati del browser quando carica una pagina e poi, appunto, calcola il tempo in mille secondi. Possiamo scorrere velocemente lo script che ho condiviso su GitHub. Potete comunque poi guardarlo bene. Magari se ci sono sviluppatori in sala capiranno sicuramente di cosa stiamo parlando. In sostanza viene creata una variabile performance e mette all'interno l'oggetto performance che è presente comunque nel browser, nel senso se non è in console. Facciamo così. Vediamo che è presente l'oggetto performance che all'interno ha altre due proprietà che sono timing e navigation. In sostanza timing sono tutte queste metriche che poi andremo a vedere in dettaglio. Quindi quando vedete una pagina come un browser, queste metriche in realtà ci sono sempre. Quindi bisognerebbe estrarle, metterle in una variabile, metterle in un data layer, spedirle diciamo dentro GTM e da GTM poi in Google Analytics. Adesso vedremo tutti i vari passaggi. In sostanza questo script l'ho composto prendendo spunto da vari fonti che sono comunque citati qui, un po' da Edio Osmani, un po' da Web Fundamentals di Google dove spiega come calcolare alcune metriche. Non fa altro che fare il calcolo appunto di quanto passa da uno stato all'altro, metterle in una variabile. Come vedete qui ci sono tutte le variabili che con la spiegazione anche di quale metriche stiamo parlando e poi le mette, fa un push dentro il data layer. Il data layer adesso vi spiego cosa sarebbe. Vedete, prima ho fatto tutti i calcoli diciamo di vari stati del browser e poi ho messo, ho dato un nome e ho messo il valore in sostanza che viene calcolato quando viene fatta una visita reale di un utente. Come dicevo, l'ultima fase è quella di appunto prendere tutte queste variabili che sono state raccolte con i vari tempi di 1000 secondi e metterle in un evento custom che viene poi pushato dentro il data layer e poi da lì vedremo come prendere questi dati in GTM e mapparli per poterli spedire dentro Google Analytics. Cos'è un data layer? Un data layer in sostanza è un mezzo di comunicazione per spedire i dati dei vari tag dentro il Google Tag Manager. Quindi viene fatta la visita sul nostro sito, con quel javascript vengono raccolte tutte le varie metriche dell'utente che sta visitando in quel momento e poi l'ultimo evento è quello del push verso il data layer di tutti quei valori che abbiamo raccolto di quelle 12 variabili che c'erano. E poi il data layer, dal data layer può scambiarseli con Google Tag Manager e Google Tag Manager poi può andare a distribuirle nelle varie altre applicazioni, quelle che volete. Nel nostro caso di oggi è Google Analytics. Nel sostanzio è tipo un array di javascript con tutti i valori dentro. non è altro che quello. Nel lato supporto dei browser ci siamo bene, a parte per Amini che è un proxy browser, quindi non può eseguire javascript. Gli altri browser sono abbastanza in linea con quello che è il supporto. è una raccomandazione di V3C del 2012, quindi non è una roba recente. Quindi c'è da un po' questa API. Vediamo adesso lato Google Tag Manager, che è uno strumento per gestire gli script, come dicevo prima Matteo, senza andare a fare i deploy. Sì, fate dei deploy, ma permettete magari a persone non tecniche di inserire tag, per esempio i team di marketing possono includere i tag di tracciamento, adb, oppure cose simili in sostanza. È molto utile, tra l'altro è gratuito. Come si configura? Si inserisce semplicemente uno snippet di javascript nel head della pagina e poi gestite tutto direttamente dal pannello di amministrazione di Google Tag Manager. Adesso andremo a vedere passo per passo come... Quindi abbiamo detto, abbiamo messo un javascript in pagina, che adesso vi faccio vedere come fare. Si mette sempre da Google Tag Manager. Questo javascript registra tutti i valori di quelle 12 variabili che abbiamo messo, che sono le varie metriche, diciamo, lato performance, con Navigation Timing API, e poi dovrebbe inserirle qui e da qui puoi spedirle dentro Google Analytics. La prima cosa da fare è sicuramente creare una variabile costante con il vostro UA di Google Analytics, quindi il codice di proprietà del vostro account. Io ho già creato tutto qua, quindi vi faccio vedere soltanto come viene fatto. Il primo step è creare una variabile e do un valore. Questa variabile la chiamo mio UA, quindi il tracking ID di Google Analytics. Come seconda cosa, sempre da Google Tag Manager, vado a inserire appunto il codice di Google Analytics, che praticamente gestisco tutto da Google Tag Manager. Supponiamo che non ho nessun tag, nessun javascript inserito sul sito, li andrò a inserire tutti tramite, in sostanza, Google Tag Manager. Vado a creare un tag di tipo Google Analytics Universal, il track type è page view, e qui in sostanza gli metto il tracking ID, l'ID che ho creato prima come una variabile costante, con il mio ID di Google Analytics. Molto importante questa parte qua, vado nelle impostazioni supplementari, e qui devo aggiungere questo valore, che è site speed sample rate. In sostanza si tratta di dire a Google Tag Manager e Google Analytics quanti dati raccogliere su tutte le visite che vengono fatte al sito. Di default è un per cento. Quindi se noi non andiamo a impostargli questo setting custom, verrà preso come campione solo un per cento di tutti gli utenti che visitano il sito, non so, in un giorno, piuttosto che... Quindi io lo metto su cento, così ho più dati e si riescano, diciamo, a fare, vedremo poi, dei bucket più precisi di come si distribuisce il traffico e quali tempi probabilmente gli utenti del mio sito percepiscono. Quindi con questo vado praticamente a mettere, tramite Google Tag Manager, il codice di Google Analytics in pagina. Come terzo step vado a creare sempre una variabile costante e la chiamo come mi pare, non so, io l'ho chiamata, web performance, room mi sembra. In sostanza questa potete chiamarla come volete perché sarebbe il valore che poi viene visualizzato dentro Google Analytics nelle proprietà di appunto comportamento, tempi utente, perché voi potreste avere diversi, diversi, diciamo, tempi di utente raccolti. Noi per esempio raccogliamo, non so quanto tempo passa da quando un utente si arriva a una pagina all'invio di una risposta su un annuncio, piuttosto che quanto tempo passa un utente a compilare e pubblicare un annuncio sul sito. Quindi in quel caso noi abbiamo diversi valori che all'interno possono raccogliere più metriche. In questo caso noi avremo questo valore che si chiama web performance room e dentro avremo quelle 13 metriche che andremo a misurare. Una volta che appunto creato questa costante vado a mettere quel javascript che vi ho fatto vedere prima includendolo sempre da Google Tag Manager. Quello che abbiamo visto prima su Gist di GitHub in sostanza glielo butto qui e creo un trigger ovvero ogni tag che voi mettete da dentro Google Tag Manager deve avere un trigger ovvero il momento che fa scaturire l'evento quindi posso decidere quando far partire quello script in pagina ci sono diverse possibilità in questo caso ci serve quello di window load ovvero quando la pagina ha finito il caricamento così siamo sicuri che tutte quelle metriche lì sono state raccolte e solo dopo vengano mandate a Google Analytics. Il passo successivo sarebbe prendere quelle 13 variabili che abbiamo creato e creare delle variabili dentro Google Tag Manager adesso vi spiego perché. Ogni evento che sono andato a misurare ho messo una variabile ho fatto il push dentro il data layer adesso devo estrarle dal data layer per diciamo prendere il valore che è stato registrato dallo script che abbiamo inserito prima quindi ve ne faccio vedere una sono tutte da fare nello stesso modo per esempio prendiamo da un content loaded creo la variabile che si crea da qui di tipo data layer quindi gli dico una variabile del data layer e gli dico il nome della variabile che corrisponde esattamente al nome che abbiamo qua dentro questo qua che abbiamo fatto prima e abbiamo pushato dentro il data layer quindi mappo la variabile data layer dentro Google Tag Manager e poi devo mettere in sostanza per tutte le 13 le 13 variabili differenti quindi se andiamo a vedere qui le ho già create tutte e 13 di quelle che abbiamo pushato una volta creato queste variabili in sostanza vado a mettere innanzitutto un trigger per farle partire il trigger parte all'evento custom quindi questo qua è il nostro evento custom potete chiamarlo come volete faccio il trigger di tipo custom event e metto il nome del custom event quindi questo qua e l'ultimo passaggio sarebbe poi di andare a creare appunto di nuovo 13 tag in questo caso non sono le variabili né trigger sono dei veri proprio tag con tutte le 13 variabili del data layer che abbiamo creato precedentemente e le invio a Google Analytics quindi questo è il passaggio finale dove viene mandato il dato dentro Google Analytics quindi vado a creare un nuovo tag di tipo Google Analytics Universal type questa volta non più page view ma timing ha proprio una proprietà sua di timing quindi tutti i tag che vengono creati con questo tipo vengono poi visualizzati sotto comportamento tempi utente variabile è il nome che voglio che si veda poi dentro Google Analytics per quella metrica diciamo categoria è il nome di categoria che ho creato prima essendo una costante in questo modo magari se ho più di 13 metri che non devo poi andare a aggiornarmi una per una se volessi cambiarlo una variabile aggiorno quella e si aggiorna tutto è il valore della variabile che avevo creato dentro il data layer quindi questo in sostanza abbiamo detto il nome che si verrà visualizzato per la metrica dentro Google Analytics la categoria che è quella prima che contrarà tutte le 13 dentro e questo sarà il valore in mille secondi quindi il valore vero e proprio che viene estratto dai dati raccolti label non è obbligatorio in sostanza qua metto un override per il tracking ID non so perché non me lo fa salvare in sostanza ogni volta ripeto la variabile del mio ID di Google Analytics una volta creato tutta questa bella roba in sostanza faccio faccio una pubblicazione oppure posso fare un preview quindi capire ma sta mandando questi dati come faccio? ci sono due modi uno sarebbe quello di installare un'estensione per Chrome che si chiama Google Analytics Debugger che in sostanza stampa nella console del browser tutti gli eventi che vengono inviati a Google Analytics di qualsiasi tipo non solamente via Google Tag Manager ma anche con i classici send eccetera diciamo ci sono degli avvisi che possono indicarvi se qualcosa non sta funzionando magari il monitoraggio è impostato male l'ho utilizzato e mi è stato molto utile soprattutto all'inizio quando non mi è venuto nella prima volta tutto questo questo sistema inoltre fornisce una descrizione diciamo dettagliata di ciascun beacon di tracciamento inviato a Google Analytics quindi anche roba di terze parti se per esempio avete tag di terze parti in pagina lui fa vedere se questi tag a seconda volta vi tracciano in qualche modo quindi riuscite a scavare anche cose malvagie se no comunque dentro Google Tag Manager prima di pubblicare i tag quindi fare il deploy tra virgolette potete fare questo preview e in sostanza vi fa vedere vi fa vedere questa toolbar che vi fa vedere tutti i vari stati del browser della pagina e quando avviene uno stato che cosa c'è a livello di tag inseriti da Google Tag Manager nel nostro caso vediamo questo evento custom che avviene al window on load e vediamo qua tutte le metriche che partono in sostanza questo ci dice che sta funzionando che i tag sono partiti alla fine poi si pubblica una volta che avete verificato che tutto funzioni bene si pubblica si dà un nome non so revisione 2 room potete mettere una nota facendo publish in sostanza tutte le vostre modifiche vanno live vi hanno segnato una versione in automatico in realtà si può anche non scrivere revisione eccetera se vi piace vincere è facile in sostanza ho creato un export del mio contenitore in un JSON che potete poi andare a trovare su questo GIST e importarvelo dentro il vostro Google Tag Manager cambiando in sostanza poi i valori del tracking ID di Google Analytics eccetera così potete giocare e vedere come funziona nel senso magari ha spiegato a voce così velocemente non è chiaro sinceramente anch'io ho dovuto ripetere il processo un paio di volte per ricordarmi cosa fare prima cosa fare dopo per non confondermi però funziona e vedremo dopo in sostanza cosa si vede in Google Analytics in sostanza come vi dicevo prima questo è il nostro Google Analytics di Bacheca dicevo prima noi dentro comportamento velocità del sito tempi utente abbiamo diverse categorie che adesso per il time frame che ho preso ce ne sono solo tre questa qui è quella che abbiamo creato prima quindi web performance room dentro avrà le 13 voci che abbiamo spedito non sono dati segreti tanto sono comunque dati anche reperibili con chrome user experience report quindi noi comunque facciamo parte dei milioni di siti più visitati al mondo quindi sono dati abbastanza facilmente reperibili con qualche query su big query di Google la cosa interessante non è tanto vedere non so i tempi medi perché sappiamo che le performance medie sono disastro possiamo per esempio in questo caso avete visto no che ci sono tutti i nomi che abbiamo segnato dentro Google Tag Manager sono lì quindi per ogni metrica viene tracciato poi il tempo adesso ho preso la metrica per esempio di DOM content loaded che quando il DOM e CSS sono pronti in sostanza la metrica quando viene attivato il documento HTML iniziale è stato completamente caricato e analizzato dal browser senza attendere il completamento di tutti i vari CSS immagini subframe abbiamo un periodo di tempo che abbiamo preso in questo caso e qua fa vedere l'esempio di tempo utente in sostanza è quel campione che dicevo prima che io ho impostato per esempio a 100 quindi tutti questi numeri sono riferiti per un periodo limitato di tempo che uno può scegliere e lì fa vedere su quanti campioni in totale sono state misurate queste metriche qui abbiamo invece i bucket che è sostanza un range tra i secondi di caricamento per questa metrica non so da 0 a 0 a 10 da 1 a 5 e vediamo la distribuzione del traffico che c'è stato in quel periodo per quel numero di utenti che sono stati diciamo analizzati in questo caso il problema è evidente c'è una coda lunga se noi andiamo per questa metrica un minuto cioè un secondo due secondi forse due secondi sono già tanti un secondo mi sembra un tempo abbastanza ragionevere oltre potrebbero esserci dei seri problemi di esperienza utente tassi di abbandono molto alti eccetera se noi andiamo a sommare non so quant'è qua 19 eccetera eccetera viene fuori un bel 20 qualcosa per cento di utenti che percepiscono in tempi di caricamento sicuramente non accettabili qui parliamo di dati di utenti reali che hanno visitato quel sito in quel periodo di tempo in quel campione diciamo che è stato analizzato quindi non è una simulazione sono proprio dati reali che la gente ha percepito si questo all'evento di don content load però si 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 per quella metrica lì esatto non è detto che sia interattiva e non è detto che ci sia del contenuto significativo più che altro perché da qui non puoi sapere che cosa è successo ma puoi vedere che qualcosa non è andato bene in sostanza poteva essere anche fattori esterni network eccetera giustamente qui la media non vale perché non so se conoscete il discorso di Bill Gates walking to the bar nel senso se noi abbiamo dieci valori uno è alto sballa tutta la media agli altri quindi avrebbe più senso dividere così in bucket che si fa con il tab di distribuzione e poi vedere la mediana quindi il cinquantesimo percentile vedere in quel senso lì quante la mediana diciamo dei tempi per ogni metrica una cosa interessante che avevamo fatto era poi vabbè a parte il problema della coda lunga abbiamo provato a comparare con dei due segmenti grazie al mio collega Simone Cornelio che è qua come in sostanza poter vedere come si inverte la curva di sessioni con rimbalzo quindi bounce rate e sessioni senza rimbalzo e si vede che in sostanza queste sono sessioni con rimbalzo e queste sono sessioni senza rimbalzo quando andiamo oltre un secondo per questa metrica qui vediamo che le cose si invertono quindi ci sono più sessioni con rimbalzo rispetto a quelle senza rimbalzo abbiamo poi fatto altri report interessanti che non riusciamo purtroppo a condividere qui però dipende anche per voi quali sono le metriche che contano per il vostro business perché un e-commerce sicuramente sarà diverso da un sito di informazioni piuttosto che un sito come il nostro sicuramente il valore di questo sistema qui è che magari il management di un'azienda se lo dovete convincere gente nel business non va a vedere magari il dashboard di un prodotto tutto tutto a sé ma magari utilizzano già Google Analytics quindi potrebbe essere un modo per fargli vedere che esistono dei problemi per il business senza farli andare a utilizzare degli strumenti nuovi che magari non conoscono e non hanno tempo di imparare a utilizzare e poi per finire in bellezza mi sono messo diciamo a cercare di riprodurre sullo schema sulle basi di questo sistema tra le API che abbiamo nel browser per poter tracciare diciamo le metriche di performance e Google Tag Manager e Google Analytics sto cercando di tirar su un sistema per tracciare le metriche di risorse singole che compongono la pagina comprese le terze parti non ci sto riuscendo bene se qualcuno mi vuole dare una mano qui c'è una bozza di un javascript sono partito da lì perché poi il resto viene da sé se qualcuno ha voglia di darmi una mano per tracciare appunto i tempi dei javascript CSS documenti HTML vari XHR e poterle appunto comparare nello stesso modo con delle metriche di business che possono essere exit rate bounce rate pagine viste per sessione utente oppure altre metriche che contano per voi e ho finito se ci sono domande sono qui se no potete farmele su Twitter o sul nostro gruppo Facebook su Slack eccetera eccetera eccetera